Supermercati, negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, esercizi commerciali di vicinato, mercati della media e grande distribuzione, compresi quelli all'interno dei centri commerciali, chiusi nei giorni festivi. È stata firmata l'ordinanza in Abruzzo. Il presidente della regione Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura di queste attività nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Faranno eccezione farmacie e parafarmacie. I negozi chiusi nelle giornate festive potranno restare aperti dal lunedì al sabato dalle 7 fino alle 20. Con il nuovo provvedimento nell'aria già da qualche giorno si vuole garantire misure più stringenti e precauzionali per contenere il diffondersi del virus e limitare il rischio contagio soprattutto in prossimità delle festività della Pasqua. Proprio nei giorni scorsi infatti era stato rilevato un afflusso di gente soprattutto nei giorni festivi. Il presidente Marsiglio ha licenziato anche una nuova ordinanza legata all'emergenza Covid-19 che disciplina l'attività delle edicole che potranno restare aperte anche nei festivi ma fino alle 13 e 30. Inoltre è previsto un controllo per chi rientra in Abruzzo in questi giorni prefestivi. Tutti gli individui che faranno ingresso nella nostra regione con decorrenza 7 aprile 2020 hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di famiglia oppure al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare questa informazione agli operatori del servizio di sanità pubblica territoriale competente. Per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territoriale competente in relazione alla località di destinazione.